La prima volta qui a Corstina. Snow bike versus ski. Grazie all'International Motor Race questa sfida tra me e Cristian Ghedina. Una gara di parallelo all'incontrario perché io salirò con la snow bike e Cristian scenderà. Vedremo chi è il più veloce, vedremo chi va più forte. La sfida è dura ma ce la faremo. Io mi sarei mangiato una pasta raguna proprio in situazione d'Alvaro perché c'è la panza. Io devo essere leggero per salire, lui ha bisogno di peso per scendere. Pasta alle verdure. Questa è la sfida. 3, 2, 1, vai! La strage è grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti.